Siamo già partiti, no? Io stavo cantando Pino Pino Pi, Pino Jimmy Schick, e benvenuti a tutti, attenzione, Jimmy Schick, Jimmy Schick, Jimmy Schick, vabbè, un po' prima della fine dell'estate di fare una pronuncia, questo è un nuovo draghetto di Gamer Punch, Gamer Pooch di Dangerous and Dragon, lo mettiamo qua, arrivato oggi, là, no, cambia il cappellino però, devo ripassare davanti, oggi, c'è una cosa di Pokémon, siamo pronti a catch the mall, e questo così, facciamo doppio cappellino, per Dio, che top, che top, bene, 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 e oggi sbustiamo Sun and Moon Unified Minds, detto anche sintonia mentale, che è più facile, e sigla! Pokémon Unified Minds, Shack, si sbusta, ciao Dio Verso, Kiki, ciao Cameraman, ciao, benvenuti a tutti, intanto è svenuto un box di The Best of XY, è tempo di sbustare la nuova serie di Pokémon, no? Sun and Moon number 11, oggi partiamo con l'espansione inglese, che ho apparecchiato la nostra tavola di unboxing con tutti i prodotti usciti, prego signor Carmen, che mostriamo tutto ciò che Pokémon ci offre per questa serie, dunque, accessoristica, album, portfoglio, a quattro tasche, davanti e dietro, e 9 tasche, davanti e dietro, là, ma che bello! Il mini portfoglio, dove c'è anche una bustina, o lo vediamo anche il singolo senza una bustina, le, i blister pack, i 3 blister, i 3 pack blister, con 3 bustini, Vika Volt e Stacataca, Stacataca, e il checklay blister, o single pack blister, con Pikachu e Sudu, Sudu Voodoo, il Pokémon che l'estate ha un sacco di caldo, si lo pesca da sempre, e i mazzi, i temdeck in inglese e in italiano, e li proponiamo entrambi, il contenuto ovviamente è lo stesso, uno in lingua inglese e uno in lingua italiana, ma oggi si sbusta! Chuck si sbusta! Eccolo qua, eccolo qua, il nostro box di Unified Minds! la, la 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 la, tanto ora, signorina Kiki, e alle stories su Instagram, seguiteci, lppiccoletti in punto hit, su Instagram, and, and 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 and, Chuck si sbusta, partiamo, signor cameraman, Chuck su, partiamo, che colonna scegli, che colonna scegli, è questa o questa? Vediamo, vediamo, vediamo? Questa! Questa? Sì. Perfetto, io questa, tu questa, benissimo, benissimo, quindi cameraman boss, portiamo dal cameraman, Signor cameraman Mentre il signor di chi fa arbitro Oggi è il judge, il nostro judge Prima bustina P dove, pipili di dove Poi, poi Paul Poi Paul, Numel, Exiu Fianoma, Exiu, ancora Exiu E' sempre lui, è lo stesso Inversione reversolo, and Lucario Carta rara della bustina Busta Tranchi Tornadus, carta uncommon Portiamo molto, molto tranquilli Molto tranquilli, adesso Colonna di boss, vediamo Se si schiappa di bella, chissà Chissà, 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 Cosmog Sarandit, chissà Poi, 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 poi video Pokémon Research Lab Com'è questo Pokémon Research Lab? Signorina, un bel trainer o... No, normale, normale, però comunque È reversico, ci piace sempre un casino E Magneton La colonna cameraman Facciamo una da una parte, una dall'altra Uno, uno, vediamo Chi schiappa di più, attenzione Pika Pika Pikachu Ma che bello Artwork bellissima Molto, molto estiva Molto serata di mezz'estate Con tutte le luciole e la luna La luna pira Ma attenzione Vedo, vedo, vedo Exiu Ma vedo, vedo E... Raichu e Alolan Raichu GX Bello Bellissimo Bella, 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 sì Bella, sì Una delle stack team più belle di questa espansione Abbiamo anche delle altre carte Ma non ce ne frega niente Dopo aver trovato Raichu e Alolan Raichu GX O GX Ho vinto Se preferite Ho vinto Per ora è in vantaggio Per ora è in vantaggio Il camera Assolutamente Però, però, però Siamo solo all'inizio And... Tainamo o Tainamo A scelta Cosmog Attenzione E... Doe Blade And... Xurkytree Come si dice? Xurkytree Ecco, quello Xurkytree In versione rara Lo mettiamo da parte Perché è una cosa molto bella Abbiamo... Quella è la campanella Che questa va carina, no? No, no Non è vero Opposto È solo la campanella Che segnala magari la fine della scuola Che è anche per molti già finita Siamo ad agosto Pien' estate Ormai si attende Mi sa l'inizio, eh Ma no Sono le vacanze Godiamoci le vacanze E attenzione Pika Pika Drillbore And Ziggard In versione molto schematica Lo Zio Ziggard Eccolo qua Poi, 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 poi Si continua, si continua Busta di boschi Ancora Sta... Eh, sta un po' arrancando Eh, però, però, però E attenzione Sta arrivando qualcosa Preparatevi Pika Pika Pikachu Lick Tong Poi Magmard Tainamo Reverso E Tainamo Reverso E tanta roba Ma è tanta roba Anche Espion Deoxys Deoxys GX La La Signorina Kiki Quale tag team È migliore tra queste due? Eh, bella lotta, eh? Questa è giocata Tanto Però, per esempio, è un po' di Deoxys Sono anche i protagonisti Della bustina Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo solo all'inizio Vediamo se in questa bustina Attenzione Signor cameraman Qua vedo Vedo roba molto grossa Ma attenzione Ma vedo, vedo, vedo Dragonitex Grande, perdono Dragonite GX L'emozione dello sboosting Mi ha fatto un piccolo scherzetto Cameraman a 2GX Signorina Kiki Il nostro Dragonite Com'è questo giro? È buono Che ha giocato anche lui Molto bene, molto bene E a proposito di giocato Ogni sabato Quando non si gioca Guardate sul nostro sito www.lbicolettin.it Cliccate sul calendario 20 E vedete tutti i torni di ogni sabato Che organizziamo Vi aspettiamo numerosi Via Belvedere 23 in quel di Alcore Ancora Tainamo Reverso Un sacco di Tainamo E Neovern Carta Della bustina Abbiamo anche un bel Grimsley Continuiamo, continuiamo 36 bustine 2 a 0 No, 2 a 1 Trovata prima Guarda il passato Ok, è a posto Attenzione Il signor camera La bustina del signor camera Riolu Reverso E Moyeson Olografico Carta olografica Della bustina No Torna indietro Attenzione Attenzione Questa è buona Lui la Cherish Cherish Ball Che bella La Cherish Ball Figata Magari ce la faranno Anche in versione Sì In versione Dov'è, dov'è, dov'è Ah no Tipo questa Eh, chissà Chissà, chissà, chissà Usciranno Una nuova Una nuova linea Di Pokémon Quella di settembre Vedremo Se la Pokémon Ci inizierà Con Dei nuovi Dei nuovi artwork Oppure no Non lo sappiamo ancora In giro su Google Ancora Non si trova le immagini Quindi Lo scopriremo a settembre Attenzione Flashkin And Terrakion Olografico Olografico Il signor cameraman Continua ad essere in vantaggio Trovo anche Cherish Ball Eh, 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 eh Sai com'è? Chi omers Mi piace questa Unified Minds O Sintonia mentale Versione Italica Se preferite Scrivetelo nei commenti A questo video C'è Eeeh 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 È mia Eh sì Vediamo cos'è Attenzione C'è Tag Switch Ultra rara 254 Di 236 Fuori serie Figata 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 Io Potrei anche Abbandonare qua Io lo farei Secondo Io lo abbandonerei Oh il vago settore Che è il signor camera Veno a sto giro Oh Hai trovato solo Ultra rara C'è nemmeno I tre box Quindi Chi portava sfiga Tra i due ero io Adesso sono fuori Beh niente Però posso ancora rimontare Non so mai Box fallato Mezzo fortunato Mezzo fortunato Esattamente Bravo signor camera Il nuovo proverbio Inventato adesso Neobat And Talonflame Talonflame Eeeh E però c'è Carate bet Che può essere rimessa Nel bocchietto Esattamente Magari trovo una Cerisbolo Ultra rara Esiste una Cerisbolo Ultra rara Si Eeeh Che bomba Che bomba E potrei trovarla Rimbole un po' Scena Al momento Il signor cameraman Nel netto vantaggio Nella sua scelta Nel suo 18 bustine Eeeh Gomeshoot shoes Versione Olografica Versolo E Wisconsin Inversione Rara C'è un bel Deden Ma che cari Il nostro Deden 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 Wisconsin 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 Pokemon What's American Boy Attenzione Si continua Seguiteci Su Youtube Su Lpp television Ivelta 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 Olografico Eeeh Un attimino Musciarna Scusate Scusate Eeeh 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 Su Instagram E su Facebook Siamo anche su Facebook Ragazzi Su tutti i nostri profili social Vi aspettiamo Pikachu Poi 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 Eeeh Una carta rara C'è Bien 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 A posto A posto A posto Vediamo se c'è la Ceris Non c'è la Ceris Neanche la Ceris Provo io Qua signor cameraman Mi sa che Eeeh Serto bene Eh sì Sì Attenzione Però secondo me C'è ancora Qualcosa Che potrebbe che Ciro il cappello Magari Porta meglio Attenzione Yanman Poi 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 Terrakjonen Kamerupt Eeeh Eeeh Blain Squid Show La Vediamo se boss A sto giro Trova Qualcosa di Interessante Alolan Grimmer Poi 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 La reversica E Ancora Alolan Grimmer Doppio Alolan Grimmer Spettacolo E attenzione Lucario Carta rara Della bustina E un bel Reset stamp Un bel timbrino Un bel timbrino Con le immagini Delle carte Di pokemon In versione Gioppica Vediamo 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 Signor cameraman Nonna Ueeh Non è possibile Non ci credo Non ci credo Ragazzi Signor cameraman Ha scelto La corona Dell'anno E trova Niente Popo di meno Che Blue Statics Full art Ed è la signorina Che annuisce Perché è una Full art Molto Molto Good Molto Molto Good In questo momento Alla snai Stanno quotando Boss Uno Miliardo Perché è possibile Che vinca In camera Sul camera Noi stai Ci sono più scommesse Abbiamo Cubone Yam Che bustina Maraine E attenzione Escalier Carta rara Che bomba Che bomba Che bomba Chissà Signor cameraman Qua faccio festa Se trovo Un'ulografica Attenzione Attenzione Vediamo ancora Colonna cameraman Con Scarpy Le altre Carte Common Una Reverse Solo Rara Unfazed And Staruzzle Carta rara Di questa bustina Un bel Audino 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 La Qua Mi sento Che c'è Una carta GX La sento La sento La sento La sento La sento Bustina di Boss Carta GX In arrivo Attenzione Preparatevi Che questa è GX Sicura 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 Che Lictor Unfencers Forse Forse Sicuro Che nella prossima Bustina Ce n'è una Forse 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 Continuiamo 36 bustine Abbiamo già tirato fuori Un sacco di roba Almeno Con le 18 buste Il signor cameraman Però Però Qualcosa ancora Ci sarà Allora Marrock In versione Reverse Solo And Drift Blim Bustina molto Tranchi Molto Molto Tranchi Non molto Fanchi Vediamo se Nella Questa bustina Finalmente Nella crona Di boss Uscirà Una GX Chissà 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 E vediamo qua cosa ci dice questa nuova bustina Di Pokémon Snizzle Reverso Molto belle le Reverso Di questa serie Che abbiamo già visto E' un bel Giant Heart Qua Una Cherish Reverso Almeno quella Speriamo Allora Non si apre la busta Potrebbe essere un buon segno Vediamo Pian pianino Pian pianino E abbiamo On Edge Uuuu Attenzione 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 c'è Però 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 Tech Team E abbiamo Mega Sublayer E' un Tyranitar GX Finalmente anche Boss Si toglie una piccola soddisfazione E trova la seconda GX Della sua colonna Signorina Kiki Com'è questa Tech Team Con il nostro Tyranitar Ci stanno Ci sta Normale Nella media E' ancora più avanti Il camera E' ancora più avanti No Ma la qualità Su quello Non Non avevo dubbi Manca solo La pancola Da 50 euro Poi abbiamo finito Attenzione Attenzione Macro And Gasmus And Una set stamp Una Due Tre Quattro Cinque buste Da una parte E una Due Tre Quattro buste Dall'altra Attenzione Eh si perché E' così no Ping E pong Continuiamo Attenzione Attenzione Toxapex And Carta rara Medici Medici U Turnboard Troviamo anche questa Luschina Anche la set stamp Non male Non male Continuiamo Continuiamo Colonna cameraman Colonna cameraman Colonna cameraman Pica picca picca Pikachu Mour Mour Com'è che è Musiarna No Lei Musiarna 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 Incredibile Uppa C'è anche Uppa Che figata Mi piace un sacco Uppu Uppa Uppa Ganga style And Musiarna Ancora Musiarna Dopo più Musiarna Anche Uppa Sempre bella Come carcia Uppa La Siamo verso la fine Verso la fine Vediamo se Vediamo se Tiriamo fuori Qualche altra bomba Dai Attenzione behem e la tabu koku c'è anche tapu koku non male non male non male tappu koku raro sono olografico e il resto della bustina con type nulla come questo type nulla l'hanno già visto in qualche serie fa su due due serie fa se non ricordo male poi 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 si continua si continua a meno 3 meno 3 per colonna attenzione abbiamo normalization z take all reversico noi ver noi vero raro and and misty favor e notavolo un disegnino abbastanza carino meno tra per boss potrebbe essere un segno chissà 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 attenzione attenzione bon chui bonjour pino 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 givenshi ian meng attenzione latio serrara potrebbe quasi rimanere il risultato ma in vero c'era il ceris ceris tag switch però 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 un sacco di roba in questa bustina c'è ceris 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 bene 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 direi che anche matematica però non solo un modo perché affinché tu c'è solo una cagliare la pole position una carta sola che il video non venga pubblicata anche oppure ce n'è una a trovarne una ma attenzione c'è scritto ora di canto si pronuncia esattamente chissà come si scrive attenzione penultimo busto della grana di boss e trova attenzione un bellissimo pur leon rossi con un crostle crostle il pokemon forma di chissà che cosa è finito da yourself stiamo mischiando la matriciana di cose ma non è possibile non è possibile dunque c'è ancora qualcosa di bello quinta bomba della colonna del signor cameraman non so cos'è ma è un'altra bomba ma attenzione una non ci posso credere attenzione non ci posso credere nella stessa colonna sono uscite queste tre carte incredibile slow poke and side attack team full art figata come è l'alterna alternativa alternati ragazzi proprio mancano solo i fuoco artificiali e ci sono tutti c'è c'è tutto mi metterà sicuramente coni and diamo anche un bel codice dai ve lo meritate voi che ci seguite fino alla fine e poi c'è ancora una bustina c'è ancora una bustina chissà cosa succederà con questa bustina magari c'è il box fallato eh eh signori signori eh c'è Bidoff e già partiamo forte poi Biroff quello che giocava nel Milan Scorupi e niente poco di meno che Scorupi poi Wimpod una delle comuni più pazzesche degli ultimi dieci anni Neobat proprio la comune di Halloween pipistrellica poi Snizzle Snizzle ragazzi sarà almeno 25 centesimi di comune attenzione scratch in reverse solo introvabile ne trovate se va bene proprio una una bustina and Linktun raro Linktun raro attenzione Linktun raro è quasi come Mew Mewtwo quasi eh siamo lì siamo lì attenzione è l'energia foglia questa è tutto energia erva ragazzi e niente abbiamo Oranguru Weakness Weakness Guard Energy e Stadium Nav a chiudere l'unboxing vinto di tanto così dal signor cameraman devastante devastante la bustina e niente vi abbiamo mostrato in questo unboxing come la randomizzazione delle carte più belle sia veramente random una colonna con tutto il mondo una colonna in cui c'erano purtroppo solo due carte molto molto belle e cioè belle perché molto molto belle sono quelle che ha trovato il signor cameraman bene 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 se vi è piaciuto il video mettete un bel like e commentatelo condividetelo e che dire che dire che dire da boss dalla signorina kicker stories e dal signor cameraman è tutto ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao